Meteo arriva la luna alla fragola. In poche ore l'evento. Tutti i dettagli su come e quando vederlo la alla fragola la luna delle fragole, nonostante il nome molto particolare. Non è altro che la prima piena del mese di giugno, che purtroppo non si sfreggerà davvero durante questa fase. Il nome deriva da un'antica tradizione culturale per i nativi americani. La luna ha sempre avuto molto fascino, tanto che le sono state assegnate molti nomi diversi. In questo caso la denominazione luna delle fragole segna il periodo in cui le fragole selvagge sono maturate e preparate per il harvest. I popoli indigeni attribuivano nomi per ciascuna fase lunare collegandoli ai vari eventi e ai cicli naturali che si sono verificati durante l'anno. Quando puoi vedere la luna piena delle fragole del 2023? Tra serata delle 4 e la notte del 5 giugno 2023, luna sarà piena e luminosa nel cielo. Accenderà accanto al supergiant Antares rosso nella costellazione dello scorpione. Prendi il tuo telescopio e ammira questa unica esperienza celeste. Dopo luna delle fragole, la prossima superluna completa che illuminerà il cielo sarà luna di Bach il 3 luglio 2023. Da non perdere!